Cari amanti delle quattro ruote, oggi vi presento un'occasione imperdibile nel mondo delle auto usate. Opel Insignia Station Wagon. Parliamo di una vera e propria gemma del 2019 con soli 57.906 km certificati. Questa auto diesel è la compagna ideale per famiglie che cercano stile, prestazioni e comfort. Partiamo dal cambio automatico che rende la guida un'esperienza fluida e piacevole, perfetta per affrontare ogni tipo di percorso. La trazione anteriore, il consumo misto di soli 4,7 litri per 100 km e il colore grigio conferiscono a questa Insignia una personalità decisa e versatile. E non dimentichiamoci del tocco di classe che offre il tettuccio panoramico e apribile che regala un'esperienza di guida ancora più coinvolgente, soprattutto nelle giornate di sole. Il prezzo è di circa 19.000 euro, un investimento che vale ogni centesimo. Il passaggio di proprietà è escluso, l'IVA è esente e la garanzia è inclusa. Un pacchetto completo per guidare senza pensieri, proprio come una famiglia merita. E se siete alla ricerca di soluzioni flessibili, offriamo la possibilità del finanziamento legato al valore futuro garantito. Una modalità che vi permette di avere l'auto dei vostri sogni con comode RATE senza rinunce. Visita il sito ratix.com per scoprire tutte le offerte esclusive.